Ricciarossi in arrivo in perfetto orario da Salerno a Torino alle 13.57 perfetto orario ogni tanto è una bella distanza Salerno-Rosoredo in perfetto orario come vedete l'orario è arrivato a E55 e parte a E57 andiamo alla bestia di coda e spacca, 5200 spacca sempre in queste prese d'aria in perfetto orario ragazzi vediamo se c'è qualcosa d'altro deve arrivare in Intercity per Napoli via Fornia però con l'E401 ecco adesso questa è spenta la ventilazione sento bello anche questa levere a spacca ragazzi 68 tonnellate pesa pensate che la prima motrice della TR500 la 000 pesava 80 tonnellate questa è da 401 041 con l'Intercity la massima 200 stanno ascoltando i motori tutti e due e questo è il 500 durante la partenza per il fatto orario e vai dataci dentro se l'ha fatto in orario e qui l'originale è il classico per Milano Greco Pirelli con i finissimi spigli ancora per poco però è sempre bello perché poi si possono fare i video fuori dal finissino ecco che parte la 401 per Napoli via Fornia ho visto Fiermalodi Fidenza Bologna Prato Arezzo quindi Salta Firenze dopo questo però dobbiamo andare a segno binario perché c'è l'S1 dopo basta perché è arrivato in Bavia dopo c'è l'S1 con la sua vettura pilota di pola classica ok grazie da visione signori e salve a tutti